Il mondo scoprirai, molte cose imparerai, TRIPPY! Wow! Guardate cosa c'è! Questo è un treno a vapore! Oggi siamo a She-Hellis, Washington e impareremo un po' di cose sui treni! Wow! Guardate! Adesso vi mostrerò un po' di parti esterne del treno, come queste qui! Wow! Guardate che ruote giganti! Wow! Quante ce ne sono! Wow! Qui ce n'è un'altra! Oh! Guardate! Un'altra ancora qui! E guardate lassù! Wow! Quella cosa grande lì sopra? Esatto! È la caldaia! Lì è dove si scalda l'acqua che diventa vapore che crea pressione! E qui sopra c'è il camino! E poi la campanella! E poi il fischietto! Uh! E qui dietro? Proprio qui c'è la cabina! Che è dove si siede il guidatore del treno! Oh! Seguitemi! Questo è il tender! Uh! E guardate lì! Quelle sono le carrozze del treno! Wow! Adesso siamo nella cabina del treno! Sono con il macchinista e il suo nome è Rick! Ciao Rick! Ok! E di qua è seduto il fuochista e il suo nome è Robert! Ciao! Ciao! E adesso ci mostreranno un po' di componenti interne del treno! Ehi! Che cos'è questa cosa? Questa si chiama leva d'inversione! Fa andare il motore in avanti! Oh! Se la metto in quest'altra posizione fa retromarcia! Oh! Posso provare? Vuoi provarla? Ok! Provaci! Ti sfido! Wow! È durissima! Wow! Ok! Adesso in retromarcia! Wow! La retromarcia è ancora più dura! Wow! Bene! Forte! Allora, una volta deciso in che direzione vogliamo andare, controlliamo la velocità con questa leva! È come l'acceleratore dell'automobile! Se lo tiri così, va più veloce! Capito? E se lo spingi in avanti, rallenta! E posso fermarlo del tutto! Ok! L'altra cosa che faccio è suonare questo fischietto per avvisare le persone quando sto per raggiungere un incrocio! Vuoi provarlo? Ok! Proviamo! Wow! Forte! E un'altra cosa che devo fare è fermare il treno ogni tanto! Questo qui ferma il treno in questo modo! E questo ferma solo il motore, indipendentemente dal treno! E qui sotto cosa c'è? C'è un grande fuoco lì dentro! Scalda l'acqua per trasformarla in vapore! Che ci dà l'energia per viaggiare! Oh! Aspetta! Il fuoco! E lì c'è il fuochista! Che cos'è questa cosa? Dimmi! Con questa maniglia posso alzare o abbassare la fiamma! Uh! Se faccio così! Vedi? Se abbassa un poco! È un po' meno arancione! Oh! Interessante! Quindi tu ti siedi qui e controlli il fuoco! Esattamente! E fai anche altre cose? Certo! Devo suonare la campanella per avvisare le persone che siamo in movimento! Vedi? Tiro questa cordicella e la campana suona! Oh! Forte! Posso provarla? Certo! Fai pure! Ok! Ci provo! Wow! Oh! Forte! Beh, grazie mille, signori! Tutti a bordo! È il momento di far salire i passeggeri! Così potremo partire per un giro! Ok! Adesso è il mio turno! Sto entrando! Andiamo! Venite con me! Wow! Oh! Guardate lì! Wow! Questa è la carrozza coperta che ha il tetto chiuso! È bella, ma... Ehi! Andiamo di là! Così potremo viaggiare sul treno all'aperto! Andiamo! Oh! Salve! Ciao! Wow! Vedete? Siamo all'aperto! Sarà divertente! Divertentissimo! Le ruote stanno girando e il fumo sta sbuffando! Si parte! Wow! Qui in campagna è tutto così verde! Guardate! Attenzione! Degli alberi! Wow! Lo vedete? Wow! Guardate quel laghetto meraviglioso! C'è così tanto verde! Non so che tipo di piante siano quelle, ma sembrano come delle ninfee! Oh! Wow! Ok! Eravamo all'aperto, ma adesso siamo nella carrozza al chiuso! Che giro bellissimo! Ciao! 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 Il treno va, potrei star per sempre a guardarlo Oh quante rotaie che ci sono al mondo e tanti treni vedi correre Il mio sogno è poter viaggiare sulla cambusa laggiù Quello è il retro del treno I vagoni voglio contare ma son troppi non ce la farò Uno, due, tre, quattro e ce ne sono ancora Ciuf ciuf, il treno va Ciuf ciuf, il treno va Sui binari a grande velocità Ciuf ciuf, il treno va Potrei star per sempre a guardarlo Ciuf ciuf Certi sono per le persone Io ci sono andato, e voi? Altri le merci trasportano Altri petrolio e frutta Io mi chiedo ma chissà Che cosa trasporterà Ciuf ciuf, il treno va Ciuf ciuf, il treno va Sui binari a grande velocità Ciuf ciuf, il treno va Potrei star per sempre a guardarlo Ciuf ciuf In testa ad ogni treno la locomotiva tutti i vagoni Tira dietro se Tira dietro se Con gli amici il treno potete far In fila pronti a cantare Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Il treno va, il treno va, sui binari a grande velocità, il treno va, potrei star per sempre a guardarlo, il treno va. Grazie per la visione!